il penatore giusto ha dato la scossa che ci voleva se parliamo di scossa o di shock emotivo De Rossi era l'unico personaggio che poteva essere messo al posto di Muregno senza far sì che la piazza insorgesse all'infinito ha trovato tre risultati molto buoni perché arrivare in un ambiente del genere come quello di Roma sovraccaricato dalle polemiche per l'addio di Giuseppe con un cambio di modulo dopo il periodo della SPAL che non è stato proprio ottimo per Daniele però secondo me non tanto per Daniele ma per struttura non sofisticata della SPAL stessa perché secondo me Daniele è uno molto preparato poi non lo conosco personalmente ma mi dicono che è uno che si mette a studiare molto ha fatto bene, ha fatto tre vittorie l'ultima con quattro gol contro il Cagliari senza subirli va bene tutto adesso c'è un po' la prova del nove perché contro l'Inter all'andata hai secondo me oggettivamente fatto una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni non dell'anno cioè non hai superato a metà campo Luca con una stoppata mezza loro aspettavano Luca con 50.000 fischietti che poi alla fine non si arriva neanche perché non si è praticamente presentato né lui né la squadra e quindi ripeto ci sta a perdere con questa Inter per tutti però sarebbe anche il caso magari di far vedere che questa Roma è capace di fermare anche una big perché ad oggi non è riuscita a Mourinho tra l'altro c'era San Siro e non è mai riuscito si è abbattuto prima di andare via ha pareggiato con Atalanta, ha vinto col Napoli ha perso col Milan, ha perso il derby di Coppa Italia però all'andata, attenzione, non c'erano Di Bala e Pellegrini che sono i due che oggi danno più speranze di una qualità diversa quindi hai paura? temi questa nuova nuova no allora io sono d'accordo che la Roma non ha superato a parte vabbè ha fatto un'occasione quella di Cristante però Sommer mancava un quarto d'ora dalla fine poi l'Inter segna dieci minuti dalla fine secondo me Mourinho non ebbe tutti i torti perché l'Inter quest'anno come la fronti a fronti può andare in difficoltà c'è stato il Milan Spavaldo o italiano con la Fiorentina Spavaldi e le hanno prese negli spazi perché l'Inter va a nozze negli spazi ci sono invece Allegri o Murinho che hanno scelto le linee compatte dietro e secondo me l'Inter ha avuto più fatica con le linee compatte dietro quando oggi sento poi lo sentiremo De Rossi che dice sì il rispetto non deve sfociare nella paura perché se no poi perdi quindi dobbiamo avere un po' di spocchia di spensieratezza però se hai un po' di spocchia di spensieratezza con l'Inter e vieni ad attaccarla ti castiga dici secondo me è meglio per l'Inter è meglio per l'Inter sì o sei di livello europeo oppure è meglio che lasci stare o sai fare questo gioco oppure ti pulisci poi lui dice l'italiano ha perso 1-0 con l'Inter e l'italiano alla fine della partita non se ne è pentito ha detto perché io ho creato delle occasioni sì ho rischiato ma ho anche creato quindi puoi anche giocartela così però l'Inter poi deve sbagliare e tu devi finalizzare cosa che la Fiorentina non ha saputo fare la Roma se arriva lì con Dybala e Sharawi e Lukaku può fare male ma devi arrivare lì e la squadra è molto sbilanciata ma lì ci arriveranno Michele sicuro perché secondo me ci arrivano perché la qualità adesso c'è anche col cambio di modulo Cedro Rossi ha fatto una roba che Mourinho in tanti però se fa la formazione che ha fatto col Cagliari secondo me è poco equilibrata per affrontare una grande squadra lo è sempre poco equilibrata non a prescindere perché ha dei giocatori secondo me molto buoni in alcune zone del campo e in altre proprio zero il concetto è che adesso tu devi dare una spallata al campionato e il senso al tuo quinto posto di adesso è quello di poter giocartela con la prima della classe se prendi un'imbarcata in casa ah no chiaro, chiaro l'effetto De Rossi si accartoccia su se stesso improvvisamente Elena cosa ne pensi? Io credo che ci sia entusiasmo nello spogliatoio perché comunque arrivano da tre partite vinte De Rossi l'ha portato entusiasmo è stato sempre una bandiera della Roma sta ottenendo i risultati e confrontarsi comunque con la prima della classe probabilmente in questo momento è anche il momento giusto perché se va bene magari porti il pareggio a casa sei contento se perdi hai iniziato un lavoro e quindi puoi sempre rimediare ci può stare ci può stare dopo tre successi insomma te lo perdonano è comunque la prima della classe ah certo questo l'ha dimostrato anche nel match contro la seconda fiducioso fiducioso ma Rudy girava un po' cioè questa Roma è questa o girava un po' sottotono per colpa di Murino come un allenatore può migliorare se non si crea l'alchimia giusta bella domanda come è che l'ha fatto a te secondo me ci vorrà tempo un po' per capirlo sicuramente era molto amato dalla piazza e da tutti probabilmente anche dai giocatori quando se ne è andato qualche giocatore gli ha espresso l'affetto e l'amore sicuramente credo che uno dei pochissimi allenatori che potesse prendere il suo posto era proprio De Rossi sta dimostrando qualcosa di buono concordo che domani è un po' la prova del nove perché è lì che si inizierà infatti oggi ancora gli vogliono tutti bene già da domani potrebbero avere dei sentimenti contrastanti perché poi la vita dell'allenatore è un po' così e si va sempre a braccetto con i risultati sicuramente ha portato una scossa ha portato qualcosa di nuovo quello che imputavamo Murigno spesso era che è vero che qualche risultato lo faceva ma credo che tutti convenissimo che la squadra giocasse male forse l'abbiamo detto interisti milanisti giuventini non giocasse proprio quest'anno la Roma ha 18 vittorie tre pareggi una sconfitta in casa col Milan all'inizio quando non c'era ancora Lukaku quindi voglio dire una scuola che in casa però i risultati li fa sì sì però insomma a livello di gioco quello si è sempre un po' detto poi per carità conto il risultato ne convengo insomma è una bella sfida è una bella sfida per De Rossi è una bella sfida con la variante De Rossi staremo a vedere staremo a vedere prima di tornare da Borrelli perché voglio anche capire come mai questo Simone Inzaghi parli il mese di bisestile dell'anno pari dei giorni dispari del mese che gli piace di quella cabala ma perché? è perché ha seguito il consiglio di Allegri come il cavallo con i paraocchi è concentrato sulla sua strada sul suo percorso e non guarda critiche non guarda polemiche non guarda provocazioni niente solo Roma Inter nella partita il campo e basta vabbè però non si capì dai comunque lui parlerà sicuramente nei minuti precedenti alla partita su Dazon purtroppo secondo me è un errore della Lega perché bisogna fare come in Europa deve essere obbligatorio perché in Europa è obbligatorio in Serie A no e quindi scelgono giustamente perché è legittimo scegliere secondo me dovrebbe essere obbligatorio anche in Serie A ma non mi piace questa scelta di non parlare come non mi piaceva quando la metteva in atto ma anche a me piace sempre ma insomma ma poi cos'è una volta sì una volta dieci no a parte che c'hai dei contratti con la Lega in questo senso cioè tutti sappiamo che ogni allenatore deve alle televisioni un'intervista dopo le partite dopo la partita sì io trovo che sia una mancanza rispetto ai confronti del pubblico che da casa comunque paga gli abbonamenti certo e verso chi fa giornalismo che fa opinionista che fa pensi per gioco insomma per tutti quanti sono d'accordo cioè la conferenza non è che chi perde una gara per forza non ha niente da dire perché Inzaghi ci ha sempre messo la faccia magari non parla nel pre ma Inzaghi parla nel pre a Dazon pochi minuti prima della partita ho capito parla con ma sono d'accordo a me piace la conferenza è un momento bello di confronto dai dai Simone parla parla andiamo ad ascoltare De Rossi che invece ama parlare giustamente insomma appena arrivato a Roma proprio su questa partita è molto un crocevia molto importante per lui e la sua Roma ascoltiamo coraggio intelligenza conoscenza anche di chi andiamo ad affrontare ogni squadra del mondo è battibile e lo è anche l'Inter che è una squadra insomma penso a detta di tutti siamo d'accordo se diciamo che è la squadra più forte del campionato sappiamo che si alza il livello rispetto alle tre partite che abbiamo vinto in questo piccolo dal mio arrivo diciamo affrontiamo una squadra che comunque è abituata è diventata abituata a tenere la palla e il dominio del gioco in pugno e quindi dobbiamo sapere che ci sono però anche dei momenti in cui possono soffrire delle cose che possono dargli fastidio come tutte le altre partite però siamo consapevoli che incontriamo una squadra molto forte e siamo consapevoli che siamo una squadra forte che potrà fare una grande partita rispetto ma insomma rispetto ma un po' di un po' di spocchia un po' di di spavalderia perché comunque non è che siamo gli ultimi arrivati siamo la Roma giochiamo a casa nostra ci stanno 65.000 spettatori se porti troppo troppo rispetto dopo si trasforma facilmente in paura e la paura ti fa perdere le partite ci saranno dei momenti in cui noi soffriremo domani come quando giochi contro le squadre più grandi le prepari al computer e la palla ce l'hai sempre te e li ammazzi poi dopo entri in campo e quelli si muovono e la palla non te la fanno prendere perché sono forti quindi essere consapevoli che avremo dei momenti 5, 10, 15 minuti in cui ci potranno schiacciare penso che sia da persone mature accettarlo e farli diventare 30, 40, 50, 60 minuti sarebbe consegnarci e regalargli la vittoria noi dobbiamo andare in campo convinti che possiamo vincere perché poi è vero non è che dobbiamo convincerci di qualcosa che è un sogno noi possiamo vincere mi è piaciuto questo De Rossi Elena cosa ne pensi mi è piaciuto molto lo reputavo già un giocatore intelligente quando giocava e adesso lo reputo anche un allenatore molto intelligente per le dichiarazioni che ha fatto equilibrate mi sono segnata tre parole che lui ha menzionato uno dobbiamo scendere in campo con spavalderia non rispettando l'avversario ma essendo consci delle nostre forze comunque è vero l'Inter è più forte ma anche noi sappiamo giocare quindi se le portiamo rispetto quel rispetto viene trasformato lui dice probabilmente in paura e la paura fa perdere le partite e qua mi collego a un po' la partita Inter-Juventus che la Juventus ha avuto paura di giocare domenica quindi secondo me De Rossi ha detto quello che forse avrebbe dovuto dire allegri alla Juventus e ai suoi giocatori domenica scorsa guarda ci ho pensato anch'io quando ho detto a mezza bocca ogni riferimento alla partita un'altra partita di cui parleremo è puramente casuale nel caso di De Rossi sì ma anch'io ci ho visto questo parallelismo oppini anche tu ci vedi questa paura che a volte c'è la paura di non prendere gol la paura di aprirsi la paura di giocare a viso aperto con chi tiene palla meglio di chiunque poi porta no? a non giocare e a non vincere io non paragonerei le due stagioni però la Juventus è al secondo posto a quattro punti all'Inter e a inizio stagione ripeto la rosa dell'Inter era data per vincitrice o per la squadra che si giocava allo scudetto con l'Inter il Napoli e il Milan perché aveva preso Lukaku di Bala con Mourinho avrebbe giocato e lottato per quello quindi vedo due cose differenti ma proprio come struttura come mentalità che partiva più alta con presupposti di arrivo alla fine più alti la Roma della Juve ragazzi i giornali di questo parlano quest'estate la Juve almeno nelle prime quattro no ragazzi dopo l'annata scorsa senza mercato dove il prezzo solo cambiato che è un ritorno e UEA che è l'unico che ha pagato la Roma prende Lukaku di Bala insieme tiene Lukaku di Bala tutti i giornali dicono Lukaku di Bala giocheranno per lo scudetto ma ne parlano tutti e ne parliamo anche qua per un mese non è che sono ribambito dal punto che non mi ricordo Inter Milan, Napoli e Juve erano davanti poi puoi mettere la Juve dietro Inter, Napoli e Milan erano davanti alla Juventus sì, davanti alle Romane sì, le quattro sì, però la Roma era una di quelle candidate a lottare secondo molti quotidiani sportivi e non solo esatto adesso siamo di fronte ricordatevi la partenza delle Romane Lazio e Roma entrambe drammatica disastro è lì che mancano i punti la Roma oggi insieme alla Lazio se avessero i punti non dico tutti ma almeno la metà ma Lukaku non c'era neanche nelle prime tre cioè Roma-Milan non c'è stato neanche con l'Inter anche se anche in campo non c'era e non avere Di Bala per la Roma è fondamentale la media punti va da 0,6 a 2,2 cambia da così hanno avuto mille infortuni cioè Di Bala non c'è Pellegrini non c'è mai stato adesso recuperano domani ci sono tutti torna Zbun dalla Coppa d'Asia Smolling che non gioca da sei mesi infatti secondo me è un vantaggio per voi perché Smolling che non gioca da sei mesi Zbun che torna dalla Coppa d'Asia infatti vanno in panchina quelli che stanno bene sono quelli che ha giocato col Cagliari in settimana però io anch'io sono più d'accordo con Francesco sul discorso Allegri Paragone non c'entra niente ma ti dico perché la Juventus ha una sua identità cioè quest'anno non è che si può dire con Allegri è quella è quella cioè non è che tu a metà stagione ti inventi non è una questione di coraggio è una questione di identità di gioco poi può piacere o non può piacere ma la Juve è là con questa identità se vuoi vedere una cosa diversa devi chiamare un altro cuoco ma sicuramente ma infatti e poi questo è il problema io non ho contestato quello che fa Allegri io quello che ho visto ma se non si può contestare nella partita di domenica è che la Juve ha avuto paura dell'Inter tu non dici che invece si è chiusa perché lì pensava ma paura perché perché alla fine di non dargli spazio cioè parliamo dei numeri veri e propri della partita perché non abbiamo provato a fare gol cioè a parte la palla beh a differenza loro loro tirano in porta noi tiriamo fuori e a differenza loro Vlaovic sbaglia non stop perché non devi sbagliare a 10 milioni l'anno cioè se l'auto ha quella palla lì tira giù due volte la porta non una attenzione l'Inter ha le occasioni migliori nel secondo tempo quando la Juve per provare ad andare avanti dargli spazi nel primo fino all'autogol comunque era difficile passare come è stato difficile all'andata come è stato difficile con la Roma di Mourinho aspetta e nel secondo ci sono le due parate clamorose di Cesni su Barella e su Arnautovic il palo esterno però hai rischiato anche tu però Costi tira due volte fuori una volta salva Vigitarian sulla linea Vlaovic rovescia fuori con il radio libero ma non mi è piaciuta la Juve in generale nel secondo tempo hai visto una Juve che perlomeno c'è provato ora provaci dal inizio secondo tempo hanno provato a fare partite entrambe la differenza è che l'Inter è una squadra addestrata a tirare io durante la partita se Michele si ricorda al quindicesimo del primo tempo ho detto occhio perché la Juve è la squadra in Europa che subisce più tiri da fuori area e l'Inter è la squadra che in Europa sta a tirare meglio da fuori area e questo accadeva la Juve non provava mai a tirare fuori area ragazzi quelli che hanno provato a giocare con l'Inter ha visto attento sono stati il Milan e la Fiorentina le hanno prese molto di più di Murigno Allegri che hanno fatto la partita tattica equilibrata perdere 1-0 4-0 è sempre la partita persa sempre 0 però all'andata la Juve l'ha parigiata l'ha parigiata tu lo stai considerando i social dopo no all'andata la Juve l'ha parigiata meglio perdere 1-0 te lo assicuro sono asociali chiedi a lui chiedi a me ai miei amici che ho dovuto bloccare e silenziare le stories eccetera non è la stessa cosa no non è la stessa cosa no io dico sulla scia di quello che diceva Elena che nel primo tempo c'è stata una sola squadra in campo a senso unico l'Inter che ha fatto la partita e la Juve che ha impedito che segnasse un po' ma anche che tirasse in porta nel primo tempo anche tirasse in posta ma nel secondo tempo c'è stata una mezz'ora in cui la Juve ci ha provato ma ha ragione Michele perché la Juve subisce di più perché la Juve si sbilancia prova a fare il gioco prende il gol al cinquantaseiesimo a settembre Allegri non è mai stato uno che scende che cosa ti fa però Allegri è uno di quelli che contro l'Inter pensa che in una situazione in cui siamo senza Ken senza Milik con Rabiot appena orientato con Chiesa al 50% dice sull'1-0 stiamo bassi che intanto non ne prendiamo quattro ma al che vada su un corner su ti danno un rigore c'è una deviazione il contropiede che ha fatto McKennie il contropiede che ha fatto McKennie sullo 0-0 come la parata di Somers su Cristante in Inter Roma Michele dico che è grave perché l'occasione secondo me è più grande del primo tempo la più grande in assoluto a parte il salvataggio di Bremer su Turam che è clamoroso però non diventa un'occasione perché gliela toglie quello ragazzi io non dico che devi tirare ieri e non vuole che venga spalmato il suo il suo il suo fumata grigia ma ci credo che non vuole vuole i 12 milioni ma perché vorrà dire che evidentemente visto che si parla tanto di chi cedere tra Chiesa perché rinnova il Diz probabilmente Chiesa e il Diz rimarranno non rimarrà qualcun altro ne parliamo ne parliamo anche di questa cosa che Chiesa scalza il Diz invece no abbiamo lo scenario di Vlaovic che sta tirando la corda a fronte di i gol nell'ultimo periodo ma anche di tanti errori ma di gol contro? ma sì appunto non nei momenti cruciali a me va benissimo che mi segni il gol decisivo con la Salernitana col Frosinone ma non mi va bene che nelle partite di cartello tu sparisci però se lo metti in un Inter che crea tanto Vlaovic ah lo vuoi pet 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 Borrelli che vuoi ho capito che vuoi Vlaovic ce li vuoi tutti con lo stop lì anche se la Ciannoglu guardi quella palla lo stop è sbagliato lo stesso sì però hai capito una volta c'è quella pressione una volta mi è arrivata la palla devo per forza però scusami ti ricordi dopo il giallo dopo il giallo come era lui subito nervoso somatizza ma lui è sempre però è un problema bene che ha 23 anni però è un problema però dico se sei una squadra che crea 10-15 palle gol a partita una volta sbagli sai che dopo te ne arriverà subito un'altra e ti metti a cuore ma chi vorresti dimmi al posto di Vlaovic chi vorresti andare via tu ci dovresti andare via Lautaro l'Inter quando è andato via Lukaku è andato Marotta a trattare con la Fiorentina con commisso gli hanno detto 50 aveva offerto l'Inter che aveva i 113 di Lukaku la Fiorentina era ancora convinta l'estate del 2021 di rinnovare con Vlaovic e ha detto di no poi a gennaio quando ha capito che Vlaovic non avrebbe rinnovato è arrivata la Juventus con 90 milioni e se le è portate a casa ma Vlaovic è uno che volevano in quel momento tutti ma credo che anche oggi vorrebbero tutti ma guadagna una cifra che l'Inter la Roma e il Milano non gli daranno mai Rudy Rudy ma l'Inter non c'è i soldi adesso tanto neanche lo stipendio di Vlaovic è pazzesco ma lo sappiamo sai che la situazione dell'Inter è un po' no dico poi magari si sistemano il secondo monte in gaggi dopo la Juve infatti almeno vince no voglio parlare il debito in generale il debito ce l'hanno tutti tu dici molti debiti in realtà sono dei crediti è un po' così che la vivi giusto ma io non so se ti riferisci alla situazione dell'Inter o di Zang sei troppo serio non avevo capito se ti riferivi alla scadenza di Zang o a me Giovanna cosa mi volevi chiedere che sono tutto reso cose diverse visto che tu sei in una posizione anche di vantaggio perché per esempio tu Rudy come vedi quest'Inter questa Juve la Roma tu dove ti collochi in questo io mi collo in una squadra fantastica che è il Milano che mi sta facendo vivere delle emozioni contrastanti ma insomma rimane la mia squadra qualche imparto di troppo no se rispondo seriamente l'Inter è molto forte c'è poco da dire molto forte mi duele dirlo ma la verità quindi diventa un po' il termine di paragone in questo periodo con Cordo De Rossi fa bene ricordare che nessuna squadra è imbattibile perché sennò sembra che davvero non si possa fare nulla però quando scende in campo fa paura per dire da milanista quando vedo C'è la Noglu che gira così dico forse era meglio tenerlo e cosa ti devo dire la Juve ha sicuramente rispetto all'inizio del campionato dimostrato che è sempre la Juve perché poi dopo ha tirato fuori gli attributi rimangono i limiti un po' di questa squadra di come è stata costruita parzialmente di questo amore che va a tratti tra Allegri la tifoseria di come gestisce la squadra e basta per quello che è la Roma è chiaro che adesso c'è molta euforia c'è molta voglia di fare tutto però insomma è un po' presto perché adesso questa settimana diciamo così voglio vedere settimana prossima cosa possiamo dire cioè il calcio lo amiamo tanto parliamo molto di quelli che sono i risultati presenti o comunque a ridosso di quello che è successo siamo contagiati da quello che è presente è normale poi devo dire sono d'accordo con la nostra amica collega Elena scusami Elena che De Rossi ha sempre dimostrato un certo acume come giocatore si è sempre espresso bene e quindi è una grande occasione certo che anche lui che lo dissimula bene ha una grande pressione addosso perché da capitano futuro trovarsi lì dopo Murigno dover gestire questa Roma lui si gioca alla permanenza solo se arriva a quarto però è un bel traguardo il prossimo De Rossi è su Lukaku prima però di ascoltare De Rossi su Lukaku chiedo a Elena poi vado in pubblicità e naturalmente chiederò anche a voi che cosa ne pensi di Lukaku è stato col senno di poi ormai c'è stato un abbondante giro di boa giusto prenderlo da parte della Roma secondo te adatto secondo me è stato un giocatore inutile per la Roma tanto serve di bala in questa squadra tanto Lukaku mi sembra un fantasma sinceramente Lukaku ha dato il meglio di se stesso con Conte quando c'era Achimi che faceva le sue cavalcate sulla fascia e gli metteva la palla sui piedi e lui segnava lui ha bisogno di un giocatore tipo Achimi per avere quel tipo di palle col gioco della Roma nonostante che ci sia Di Bala che con i piedi veramente non dà del tuo pallone di più però non è mai emerso quindi secondo me è un flop è un flop dopo la pubblicità quindi un po' di dubbi sul fatto che Lukaku possa rendere contro l'Inter come contro il Cagliari c'è là lo stesso allenatore Francesco un giocatore così non dovrebbe averne lui ha fatto nove gol in Serie A sono cinque gol in Europa League e un gol in Coppa Italia su 28 presenze ha fatto 15 reti quindi lo score comunque di tutto rispetto per una squadra che non gira bene da inizio anno perché la Roma ha cominciato a girare meglio adesso anche se nelle prime due partite ha comunque subito un gol e nell'ultima con Cagliari ha giocato con più tranquillità guarda caso perché c'era Di Bala che stava bene io credo che Di Bala in questa squadra conti tantissimo Pellegrini pure ma la fase difensiva con la difesa 4 abbia cambiato un po' le cose e quindi era quello che in tanti gli imputavano a Mourinho che questa squadra non giocasse non tirasse mai in porta se c'era quindi la possibilità di cambiare un modo lui su questo si soffermava sempre nello spiegare che era difficile per lui dare un'altra identità tattica in realtà invece per adesso non è così anche perché la Roma ad oggi si trova un punto della Champions quindi insieme all'Atalanta diventa secondo me in questo momento perché il Napoli lo vedo ancora un po' più indietro anche se è più forte come Rosa però al momento è quella che secondo me insieme all'Atalanta è ovviamente tra le prime due candidate io sono fiducioso in De Rossi mi piace come parla non è un egocentrico non è uno che attira tutto su di sé parla per la squadra parla per i giocatori parla per la piazza anche ovviamente ma perché è un romano che sa cosa vuol dire vivere a Roma è la Roma stessa e lui parla di battere anche squadre imbattibili perché ha battuto squadre imbattibili nei tempi della Roma sua giocando con Totti eccetera quindi può accadere e io sono anche abbastanza fiducioso che questo turno di campionato possa dare dei gol dell'Empoli un cross deviato di testa all'indietro è andato a scavalcare Ochoa è andato all'incrocio dei pali quindi continua sembra un autogol l'Empoli di Nicola finora a fare bene anche se la Salernitana ha fatto mercato con Boateng che gioca oggi ma non l'ha sufficializzato oggi insomma ha preso difensori che 5-6 anni fa potevano fare la finale di Champions è abbastanza fortuito beh vediamo perché di solito Inzaghi passa il vantaggio la devia al centrale difensivo comunque ma tu dici oggi al contrario vediamo se questa volta fa il contrario e riesce a rimontare non che ce lo auguriamo che siamo in parziale oggi è un treno in portà è un po' sfortunato qua e beh Zanoli mette l'incrocio il difensore Zanoli anche perché il pallone arrivava dritto su Ochoa la palla di Cambiaghi da sinistra a giro messa in mezzo era un cross e ha fatto un pallonetto la devia di testa Zanoli che alla fine la mette all'incrocio alle spalle di Ochoa all'incrocio a sinistra beh diciamo che un po' sfortunato ecco poi ci sta che nel lungo periodo non ci sia fortuna o sfortunata però oggi per la salernitana la salernitana è stata sfortunata oggi questo gol è sfortunata però se vediamo la classifica oggi è veramente non dico l'ultima chiamata perché siamo ancora alla quinta siamo quasi decisivi eh sì perché oggi ho accorcia oppure diventa difficile però la partita è lunga ma l'Empoli con Nicola ragazzi sì è parito bene in casa con un 3-0 col Monza col Monza ha pareggiato Torino con la Juve va bene lasciamo stare gare in 10 ma ha fatto un punto anche lì e sta vincendo Salerno cioè adesso parliamo anche del fatto che ci siano allenatori che fanno veramente dei miracoli ogni volta perché lui Crotone Salerno è uno di quelli più decisivi di tutti io giuro vorrei passare un poveriggio con lui per capire cosa trasmette cioè perché eh no non è poi eredita anche situazioni complicate lui è più specialista nei mirati ma è uno che ha vissuto anche una vita molto complicata tra l'altro quindi capisci che evidentemente lui riesce a tirare fuori forse per questo forse per questo perché l'ha tirato fuori lui anche sicuramente perché ha una sensibilità diversa dagli altri e magari lo si vince poi nello spogliatoio però davvero è cioè non è più un caso no è vero è vero Nicola è un fenomeno in questo senso ogni anno si ripete ogni anno sì sì non è una cosa ti capi una volta vabbè due volte ok qua sempre è l'uomo dei miracoli l'uomo dei miracoli questo sarebbe il terzo miracolo se lo fa perché l'Empoli l'avevamo data per spacciata come la salernitana invece spacciato a proposito di miracoli Crotone ragazzi io adesso asmaila poi Elena e Michele due domande in una Lukaku top e flop e se condividi quel non succede ma se succede questo turno di campionato può rimescolare un po' le carte perché come ha detto De Rossi la Roma può certo che succede può farcela no? condividi? sì beh insomma per definirlo flop mi sembra un po' prematuro sicuramente è uno di quei calciatori che è un po' particolare anche un po' fuori dal campo un po' come attitudine a giocare aspetta il pallone forse ce l'avamo abituati a vederlo molto quando aveva questa forza fisica esplosiva che finalizzava tanto però se guardiamo le reti che ha citato comunque anche Francesco adesso per dire solamente quelle in campionato ne ha fatte 9 in 19 presenze quando guardavamo la media dell'Inter che era esplosivo ne ha fatte ne faceva 36 36 presenze 24 reti quindi è in media identica quasi senza però giocare nella squadra che sta vincendo il campionato quindi non si può dire di certo che sia un flop a mio avviso è un calciatore che si è reso un po' anche nei comportamenti incostante secondo me è difficile non mi sembra molto un uomo spogliatoio è difficile metterlo in un team in un gruppo fa la prima donna come ha gestito anche la sua questione lavorativa è difficilmente collocabile e la speranza che Cova sta covando la speranza che questo turno di campionato rimetta un po' le cose ma sicuramente ma è questo cioè scusa il campionato tutti vogliamo vogliamo un campionato più interessante ma sicuramente l'Inter non fa tre punti a Roma ah vedi vedi oh e allora io giro questa sicurezza non vinci non esci non torni a casa con i tre punti ero curioso di sapere se Rudy era amico anche oltre che diciamo fuori dal campo anche in campo con Francesco nel senso che ormai visto che il Milan è lontano a te non ti interessa il secondo posto e speri nella Juve per lo scudetto per non vederci no 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 con la stella io spero sempre solo che vinca il Milan del resto non mi interessa mai nient'altro ma c'è un po' questa santa alleanza è ritornata d'attualità no no ma io io capisco il Milanista spera che vinca la Juve io lo capisco ci farei uguale spera spera secondo me è un eccesso esatto sperare è un eccesso perché alla fine poi quando vince anche io quando c'era la lotta tra l'Inter e il Milan due anni fa preferivo il Milan e ha vinto il Milan ma è diverso perché loro la seconda stella che arriva prima lì la Juve sì ma qua c'è qua c'è anche l'asterisco però ragazzi attenzione no a me la loro è piena la vostra è l'asterisco quando hai la partita in più senza l'alto che giochi a me interessa la partita che abbiamo con Napoli e poi il resto loro hanno un problema serio ragazzi guardate contro piede dell'Empoli che però spreca in tre contro due una ripartenza molto pericolosa niente da fare per Cherry che si era involato no perché Elena poi ritorno da Michele perché io non voglio già non dorme tranquillo voglio voglio aumentare questo questo turbamento perché in effetti è vero che l'Inter schiaccia Sassi strabiglia ha trasformato Ciananoglu giocano a memoria un centrocampo meraviglioso De Rossi l'ha detto in settimane perché non se ne parla tanto del gioco tutto vero ma sono quattro punti è vero che potenzialmente sono sette ma tu devi andare a vincere contro l'Atalanta e non è proprio facilissimo cioè un campionato ancora che potrebbe tornare in equilibrio pazzesco ma poi l'Inter si ha già regalato nei momenti che si ha regalato l'Inter si è anche avvicinato a fare l'Inter l'Inter deve ancora recuperare la partita con l'Atalanta poi inizierà la Champions che comunque la Juventus non ce l'ha quindi sicuramente facilitata a recuperare le forze rispetto all'Inter quindi secondo me un momento un pochino più di debacle dell'Inter ci sarà bisognerà però capire come se la giocherà la Juventus in quel momento secondo me se riesce a continuare a rimanere sulla scia dell'Inter cosa che spero o meno quando abbiamo pareggiato con l'Empoli il mio primo pensiero è stato bene è finita la lotta quello è stato un pareggio più grave sinceramente perché ci sta a perdere con l'Inter ma per me non ci sta a pareggiare con una piccola è diverso perché ripeto per me da marzo si può verificare o dire sinceramente se c'è qualcuno che può lottare con questa squadra per lo scudetto cioè la Juve è stata già più volte a meno 4 a meno 2 poi è andata più 1 momentaneamente che vanno a perdere in più poi è tornata a meno 2 poi è andata a meno 4 cioè a me interessa che loro stiano attaccati come diceva la Lega poi a marzo come dici bene tu ripartono le coppe e lì si verifica tutto però continuo a ricordare che prima dell'Atalanta ci sono altre partite c'è la Roma ci sono due scontri di campionato c'è la Champions poi arriva l'Atalanta al 28 da lì da qui all'Atalanta magari l'Inter ha più 15 dalla seconda o magari meno 4 che poi tra l'altro non è marzo e tra 10 giorni l'Atletico sta arrivando ragazzi allora già in questo turno voglio dire tu vai a Roma e sappiamo quanto sia insomma hai ricordato anche lo score della Roma in casa che ha perso solo col Milan all'inizio non so se mi spiego Borretto loro giocano lunedì contro l'Udinese sicuramente lo posso dire però dall'altro lato della bilancio faccio il contro diciamo il contraltare nel senso l'Inter quest'anno in 11 trasferte ne ha vinte 9 ha pareggiato con la Juve e con il Genoa fuori casa cioè ha fatto un punto in più fuori casa rispetto alle partite in casa a parte la trasferta di Torino con le Big dove Inzaghi anche quando l'Inter non ha vinto lo scudetto diciamo nel preparare la partita secca è sempre stato molto bravo quest'anno ha vinto a Bergamo ha vinto a Napoli ha vinto a Roma adesso le ultime Fiorentina di nuovo Lazio di nuovo Borrelli oppini alla certezza che tu da Roma non vai via ma non è che si può vincere è stato chiaro no certezza magari pareggia che ne sai non chiederebbe ma certezza è una sensazione comprovata però ti posso dire che io caccia anche questo quando De Rossi parla De Rossi parla non vi dico la formazione perché c'è questo ballottaggio approvato in settimana Bove per il Sharawi secondo me la Roma con Bove al posto di Sharawi è più equilibrata e per me è più temibile se lui dice con spocchia e spavalderia dobbiamo andare lì ripeto secondo me fa il gioco dell'Inter se va in avanti poi non ci credo fin quando non lo vedo guarda che il vostro giro di Champions non mi ricordo la prima partita qual è stata? con la Real Sociedad ecco la Real Sociedad è una squadra che si è messa a giocare con l'Inter altissima l'Inter ha fatto in difficoltà però non credo che lì l'Inter abbia approcciato bene però sai se lui domani non sfrutta il potenziale tecnico il Sharawi Di Bala Lukaku Pellegrini che ha davanti ma vedi sono tutti offensivi però i terzini sono terzini offensivi Angelinho e Karsdorp non sono difensori sono ali ma neanche ma neanche Alessandro nella Juve di Mandzukic Di Bala Higuain Quadrado un'altra solidità sì però a metà campo hai Pjanic e che dire che non vanno a 800 all'ora non sono Charanoglu e Barella quindi anche lì rischieresti in realtà tu cosa fai metti tutto il tuo fuoco ovviamente senza esagerare perché tanto secondo me se aspetti l'Inter perdi l'Inter con le squadre che si chiudono sono state le partite più difficili sì ho capito però allora la Roma paradossalmente perché l'Inter ha bisogno di giocare di creare di andare nello spazio non è una squadra che ha il driblomane che dà fermo salta tre allora un conto se l'Empoli gioca a viso aperto prova in verticale tantissimo ma la Roma ha i giocatori per mettere in difficoltà le bocche di fuoco se riascoltiamo bene quello che ha detto De Rossi cioè fondamentalmente poi non ha detto ballare in baggio esatto ha detto rispetto che non deve trasmutarsi in paura Spavalderia cioè guardare in faccia l'avversario ha anche detto ha concesso 10-15 minuti di gioco all'Inter totali però al punto quale ha detto se pensiamo di giocare una partita come una piccola passami il termine in difesa per poi fare non va bene cioè è la mentalità giusta ma perché non ce lo vedete il parallelo cioè l'imprinting di Allegri è giocare da piccola anche quando piccola non sei ma non è una cosa negativa è Allegri e gioca così con la sua Juve è un'altra cosa perché Allegri sa cosa ha in mano è un'altra cosa non è una piccola Francesco no non è una piccola ma è una grande che si sta ricostruendo la Juve va a San Siro con un 18enne davanti sì ma dai l'abbiamo liberato ma quante volte abbiamo detto cortomuso cioè lui è uno è un pratico un pragmatico c'è uno così lui è fatto così a lui non è frega niente si gestisce e intanto è lì è secondo siamo ogni volta da dieci anni a spiegare che Allegri è questo perché Allegri è questo da sempre quando aveva Manzo chi c'era in quadrato Piani ci di bala ripartiva e distruggiva tutto perché c'erano dei fenomeni ma io ricordo Francesco quest'anno giocatori che uscivano da alcune partite dicevano a un certo punto non sapevamo cosa fare perché noi eravamo propensi ad andare avanti per riacciuffare il risultato Allegri ci diceva ma chi lo diceva c'è stato una dichiarazione perché i giocatori si divertono ma se lui con l'Empoli si lamenta con la squadra per un quarto d'ora che stanno bassi all'inizio dell'anno succede anche la disgrazia di Reggio Emilia col suo suolo che fai un casino no però chiesa quante volte ha detto all'inizio dell'anno abbiamo cambiato adesso pressiamo alte poi invece alcune partite non riesce proprio ritorna nel suo DNA ma perché secondo me non è difficile da analizzare nel senso che Allegri ha fatto anche le finali di Champions però lui nella fase offensiva dalla cintola in su deve avere il campione a guidare se invece si deve affidare ai meccanismi di un gioco propositivo a prescindere dagli interpreti preferisce stare bari centro-basso e aspettare che qualcosa si trovi risultato però non è una tattica ragazzi la Juventus di Allegri nel 2015 finale con Barca che secondo me va molto più vicino alla Coppa dell'altra partita ha un centrocampo fortissimo in quella partita lì in semifinale con Real a Torino i primi 40 minuti il Real non esce quasi mai dalla metà campo fa fatica parte in contropiede la Juve è là che pressa e sta addosso alla squadra e va in vantaggio poi vince la perioda 2-1 ma lì lo fai perché hai il centrocampo che era una roba secondo me che rispetto anche a quello dopo Pjanic la difesa vogliamo parlare lì c'hai Vidal, Pirlo, Marchiso Pogba all'apice e poi permette di giocare con Tevez e degli esterni che ti schiacciano il Real Madrid infatti vai a fare 1-1 anche là con Real che è la campione d'Europa dell'anno prima ragazzi anche su De Rossi al volissimo al volissimo perché poi ti devo far tremare non subito con Lautaro perché ci sei perché noi Mourinho a me diciamo piace quando Mourinho diceva il calcio è l'unico sport in cui un premio Nobel arriva l'ultimo arrivato per strada e lo può dire che non capisce niente il premio Nobel c'è uno che ha una certa esperienza non puoi dire fa le cose casuali lui è partito con la difesa a 4 con la Roma quando ha visto che il modulo ideale di Mourinho è il 4-3-3 ma poi dipende chi hai quando ha visto che con Mancini nell'uno contro uno va in difficoltà dietro è passato a giocare a 3 e ha trovato l'anno scorso una quadratura del cerchio quest'anno ha cambiato perché non aveva più Smolling non aveva i bagnets e ha creato di più ma ha subito pure di più alla fine i calciatori non sono un dettaglio nel calcio purtroppo a volte noi ci innamoriamo delle filosofie e c'è il Milan di Pioli ci sono i giocatori gli allenatori ma ho capito ma quindi tu trovi io dico che a lei li sta valorizzando una cosa forte allora il bravo allenatore è un po' come il bravo arbitro poco si deve vedere deve valorizzare il materiale che ha non deve essere eccessivamente protagonista però non deve peggiorare ci sono allenatori no non deve peggiorare secondo me Mourinho specie quest'anno io Rudy diceva la massa e la piazza ha messo il lutto è vero perché è stato bravissimo a farsi amare da una componente importantissima ma nella società nei giocatori credo che a un certo punto lo amassero più sopportazione va bene ma la società perché ha avuto tantissime uscite negative con la società però è anche dire che al di là della tipologia di trofeo ha vinto qualche trofeo e quindi ha riportato la Roma ha vinto due finali europee non è una cosa normale però ragazzi adesso con tutto rispetto per la Roma che ha una storia secondo me più importante la Conference League e l'Inter Toto sì ma certo infatti Inter Toto era un torné stile ma il livello è quello l'anno scorso gli rubano l'Europa League la finale sì ai rigori anche combattuti no ma la partita gliel'hanno indirizzata al contrario c'era un rigore io non sono romanista ma per me è stato un torto quello che gli hanno fatto la Roma quella è una coppa che se vinci a Roma adesso sinceramente l'Inter Toto della Conference guarda che l'Inter Toto era la valutazione non sai neanche chi sono le squadre che fronti fino alla semifinale sinceramente allora è una coppetta però la Conference è una coppa seria diciamo che era quella a cui partecipava lui il suo ultimo anno lo ha fatto dopo insomma ci si aspettava un salto di qualità che non c'è mai stato anzi c'è stata un'involuzione ben ritrovati anche durante la pubblicità vuol dire che Borrelli ha fatto sottoposto a un poco di fila a un fuoco amico a un fuoco sulla carta amico no ma perché Murillo divide a distanza non di pochi giorni ma a distanza di decenni perché lui ha fatto la storia beh ma tu non devi essere però è realistico dire che quest'anno finché c'era Murillo a Roma la Roma non giocava e non tirava in porta non l'ho capito eh realistico non giocava e non tirava mai in porta realistico al di là di quello che ha fatto con l'Inter che non si cancella di storia quanti punti aveva quando non è andato via appunto aveva nove punti in meno con tre punti in meno dove era? che posto era in classifica? era nel gruppone no che gruppone? la Roma dove era? che posizione era? sesta ottava o nona? ma sì ma dalla quarta alla nona sono tutte insieme ma anche oggi capito fanno tutti insieme ma se finisce il campionato quando Murillo mi ha cacciato ma infatti l'hanno cacciato perché lo volevano cacciare dopo Milan Roma scusa però però dai diciamoci le cose lo vedi che giocano è vero che giocano meglio adesso sono più leggeri a Roma-Verona l'avete vista? ma io ho visto tutte le altre è il secondo tempo del Verona io ho visto Inter-Roma no io parlo di De Rossi qua si attacca Allegri che comunque qualcosa prova a fare senza dei giocatori e lui va a Milano e non supera ma tu hai detto Cristante ma è stato un caso ma dai possiamo possiamo dirlo ma l'Inter era 0-0 ma l'ha perso un po' il tocco magico ma sì ma dai possiamo dirlo non è che mica si offende cioè come quando è stato incensato perché era veramente forse innovativo Ludi Ancelotti all'Everton all'Napoli tra pattoni al Cagliari aveva perso il tocco magico a Cagliari tra pattoni dipende che squadra ma anche il Napoli ha dato via Guardiola il miglior allenatore del mondo sì ho capito ma dopo però Ancelotti ha iniziato a battere boom boom vince sempre boom 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 Mourinho a un certo punto vince sempre è andato al Real Madrid la migliore squadra del mondo e Mourinho ha vinto un campionato non ha vinto le Champions al Real Madrid per esempio sì ho capito però ha vinto ha perso un po' di smalto ci può dire che ha perso un po' di smalto ha vinto anche alla Roma ha vinto adesso lo uccido uccido Borrelli poverino perché l'Inter è stata il suo più alto punto di carriera giusto? e da lì c'è stato c'è stato meno al Porto anche come? anche al Porto è prima lei dice alla fine l'ultimo il primo triplato Porto allora inizia è increscendo Porto Chelsea Porto vince il campionato tutto ha fatto il triplato ha fatto il triplato però la supercoppa europea la vince o la perde no perché va via no ma ha vinto l'Europa Liga l'anno prima ma lui va via dopo la Champions va sempre via sì dopo la Champions si toglie addirittura la medaglia mentre c'è la premiazione sì dove è sempre via però dico dopo il punto più perché tu sei andato ma Giovanni è andato al Real ha vinto il campionato ha dato al Chelsea la seconda non è che va il Valencia a vincere il campionato va il Real era il miglior Barcellona che non c'è paragone con questo non parli del Real non parli del Villareal ma te lo ricordi era il Barcellona di Guardiola giriamo la domanda a Michele Barcellona di Guardiola vince nel 2015 fa il triplete con 156 gol anzi fa il siplete ma secondo te secondo te quando arrivò a Mourinho la Roma lasciamo lo perdere no ma ti domando secondo te avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto finché è stato esonerato alla Roma cioè tutto lo immaginare che lui potesse raggiungesse risultati migliori io credo che nei primi due anni il fatto di essere andato in finale delle coppe in campionato ti fa togliere la possibilità di arrivare quarto che era la massima aspirazione della Roma di questi due anni perché se giochi sempre fino a maggio e il giovedì è impossibile arrivare quasi impossibile non è impossibile ma è difficilissimo in più anche quando fa mercato col settlement agreement ha dovuto prendere giocatori a guarda che non c'è Renato Sanchez non c'è adesso è vero che Pellegrini sta giocando e sta facendo bene in queste tre partite con De Rossi ma quest'anno è stato più rotto che no Di Bala così così vabbè se è un murignano l'abbiamo capito però Pellegrini è stato anche secondo me non sono murignano perché a prescindere cioè per me però non l'ha aiutato Pellegrini ad essere capitano futuro quest'anno secondo me a lui non gli ha dato una grande mano a me ha sorpreso in negativo quest'anno Pellegrini anche quando ha giocato adesso vediamo se si è svegliato anche per la nazionale serve Pellegrini per la nazionale per gli europei allora Michele secondo me è unanime il giudizio negativo di Mourinho nella sua stagione perché noi siamo un paese risultatista ma ragazzi ma ci sei un tavolo no Giovanna la sera della finale di Europa League se Mourinho vince ma non ha vinto ma quando ha vinto la conference sono saliti tutti sul carro ma il primo anno era la conference allora attenzione europeo a Roma e quindi ci sta ovvio che il capolavoro lo fai se vinci l'Europa League però non è innegabile che con Cagliari De Rossi mette tre punte e gioca a quattro e vince 4 a zero la Roma quando mai quest'anno ha fatto due gol allora fatemi salutare di differenza lasciamo questa domanda o tre anzi no aspettiamo un attimo perché si è giunto finalmente è arrivato un momento potrò svelarvi la sorpresa perché dicevamo no Elena che insomma il parterre non era completo ma io su Mourinho ragazzi io non vorrei adesso non vorrei far agitare Borrelli che già sta pensando a sto campionato allora posso presentare giusto? posso presentare il nostro ospite e allora con grande piacere rullo di tamburi è arrivato Luciano Maggi ciao direttore buonasera a tutti buonasera direttore stavamo parlando di Mourinho ecco questo Mourinho che è stato esonerato per Borrelli è un Mourinho che comunque ha portato un titolo a Roma e forse ingenerosamente allontanato e un De Rossi subiudice perché forse con Verona Cagli effettivamente prima però era number one ora è number three bravo ha perso un po' di poche la mia teoria era vediamo se ci troviamo d'accordo che l'allenatore lo portano in alto le rose e i giocatori forti su questo non c'è dubbio no però le rose forti si fanno con gli allenatori in attività adesso se devo giudicare io la Roma come una rosa forte mi dispiace doverla dire perciò non poteva trasformare l'acqua in vino Mourinho come non la trasformava no no ma guarda che giocatore attenzione no no attenzione raccontate a Michele una cosa che tutti hanno detto a Roma basta una telefonata di Mourinho per portare Lucaco per portare Di Balla l'ha preso tutti lui e la Roma ha detto ci sono rimasto male candidamente dopo la partita ha segnato adesso ha detto si ammetto quando ho sentito che Mourinho se ne andava perché mi ha voluto lui e quindi è vero è stato uno che ha attirato i giocatori però non ha fatto la squadra come doveva fare in poche parole ma perché non avevano tutte le risorse che ci sarebbero servite per fare la squadra forte perché se prendi come dice lui Di Balla o ti puoi permettere Renato Sanchez è perché hanno problemi magari fisici la Big li molla e la Roma va a prendere perché Lukaku 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 non fa parte di queste cose anche perché ma Lukaku un allenatore buono un allenatore che sa quello che deve fare non prende un giocatore perché rimane libero da tutte le squadre perché può darsi pure che non faccia il gioco suo tant'è che Lukaku praticamente nella Roma toccava qualche pallone perché la Roma ha un gioco un po' particolare ha un gioco un po' particolare ma mica nel campionato sì vabbè comunque è un giocatore attenzione discreto non eccezionale ma discreto però nell'economia della Roma praticamente non serve un giocatore in quella maniera serve più uno che non dà riferimenti che praticamente punge ti ricordi che Conte spiegava che per allenare per avere Lukaku al 100% devi allenare in un modo particolare stagli addosso in un modo particolare tutta la settimana non ci sono dubbi anche questo praticamente è un fatto importante perché le carezze di Morini a Lukaku non servono serve la frusta praticamente che c'aveva Conte Conte nella sostanza ha sempre ha modificato l'atteggiamento di Lukaku perché l'ha fatto diventare aggressivo e lui aggressivo non è per natura quindi il problema di fondo è anche l'allenatore che riesce a modificare gli atteggiamenti in parte attenzione in parte vabbè certo poi sono anche uomini fatti finiti è anche difficile più che altro mantenerli poi nel tempo a proposito di Conte no ma piuttosto scusa cosa avete detto nel frattempo di De Rossi di De Rossi di tutto e di più abbiamo parlato di Inter Roma ma poi ci ritorniamo adesso per esempio De Rossi di De Rossi De Rossi rimpiangono tutti Morigno a Roma si vogliono fare del male no è lì che ti volevo chiedere cosa ma mica tanto no no mica tanto sai ma la tifoseria dici tifoseria rimpiange Morigno e Mogi dice si vogliono fare del male quindi per te la scelta di mandar via Morigno con tutte le attenuanti no io proprio non l'avrei preso tanto per essere in sintonia non l'avresti preso perché vedi quando allora Morigno è stato preso dalla Roma nella stessa maniera in cui è stato preso Lucaco cioè Morigno era il nome eclatante che faceva esplodere praticamente l'Olimpico e ci sono riusciti perché hanno portato allo stadio olimpico il pieno completo di tutte le partite anche quelle partite che non avevano niente da dire provate a immaginare in base a quello che sta dicendo Luciano se in queste due stagioni in Serie A al posto di Morigno ci fosse stato italiano De Zerbi mettiamoci chi vogliamo non avrebbe cominciato la stagione ma ragazzi ma non arrivava la quarta di campionato era già esonerato perché non solo perdevi punti e giocavi male ma non tiravi neanche mai in porta ma poi consideriamo anche spesso le conferenze stampa cioè non è che con la società è sempre andato proprio leggerissimo ha tirato la corda ma infatti ma a proposito scusa ma il tuo padre parla mai di cagli faccio papà ma è più tifoso il padre madonna io l'ho trovato una volta a Forte dei Marmi vuoi che viene una volta qua lo portiamo qua una volta portiamolo non c'è problema è un amico mio a Forte dei Marmi abbiamo fatto anche degli spettacoli al Twink certo scusate abbiamo fatto una piccola ci sono anche dei gossip su quelle serate lo dico no gossip no perché qualcuno racconta lì non ho detto su chi è non ho detto su chi è però Pini quando tu inizi a tirare il sasso con quel sguardo immaginate di Luciano con Umberto che cantano in serata insomma movimentarsi abbiamo cantato questo è vero io sono un po' stonato ho fatto spettacolo ma chi se ne frega tutti che sei cantante tu puoi anche stonare però ti sei buttato essendo un uomo di mondo mi buto nella mischia sei coraggioso come la Roma di De Rossi che allora qua ti dico ecco abbiamo parlato anche di questo Luciano prima di cambiare argomento e parlare del waltzer degli allenatori De Rossi in conferenza stampa ha detto non voglio scusa a febbraio c'è il waltzer degli allenatori c'è il campionato sanno già tutti dove andare a giugno cosa facciamo balliamo sono già saltati Cloppe, Ciavi Cloppe, Ciavi Murigni sappiamo già che non ci saranno voglio dire c'è anche il nuovo allenatore della Juve c'è anche il dopo Mazzarri sappiamo anche qui che sicuramente non sarà il nuovo allenatore della Juve Mazzarri che resta sicuramente perché vincendo lo Scudetto resta per fuoco guarda la gufata Borrelli ben ritrovati tra poco il waltzer degli allenatori ma tornando al discorso per un attimo delle dichiarazioni di De Rossi alla vigilia della gara contro l'Inter De Rossi ha detto voglio giocare e se le ha rassegnati tre punti chiave con spavalderia pochia e spavalderia perché avere troppa paura poi cioè essere troppo prudenti porta ad avere troppa paura se hai troppa paura perdi la partita e questo è un discorso molto ma molto giusto perché se tu praticamente al contrario rispetti l'avversario perché pensi sei più forte perdi la partita se invece metti in condizione l'avversario di farti rispettare di farsi rispettare o di farti rispettare a quel punto lì poi anche non vincere la partita ma neppure perderla o magari la perdi con autogol può essere anche può essere anche può essere anche che venga persa la partita no ora a parte le battute però la sostanza del discorso di De Rossi è una sostanza giusta fare praticamente al gruppo giocatori ancora prima della partita perché gli allenatori parlano nello spoletoio prima della partita e fare un discorso di timore giocando con l'Inter è come dire abbiamo perso la partita lui fa bene a dire così da essere spavaldo magari qualcuno lo prenderà anche per matto se vogliamo però la sostanza è che si racconta ai giocatori che l'avversario è battibile e già questo pensa che penso se si convincono no no ma sentito è battibile anche lei è subito beh no poi c'è stato un parallelismo Luciano io adesso lo so che in scaletta è più avanti però perché se Allegri avesse messo in campo questa filosofia forse non sarebbe finita così perché non ce la faccio non ce la faccio non ce la posso fare 53 punti non ce la faccio eh vabbè io mi muovo no qui praticamente è un discorso un po' diverso allora premesso che premesso che se eh Vlaovic avesse stoppato la palla quando stava 0 a 0 e faceva l'1 a 0 può darsi pure che era un'altra partita perché è Allegri è bravissimo a mettere il pulma davanti alla propria squadra praticamente da lì non si passa premesso questo eh il gioco dell'Inter praticamente è stato molto migliore specialmente nel primo tempo è il gioco della Juventus e se non c'era il portiere era un 3 a 0 poteva essere anche nel secondo tempo ci siamo no aspetta però il portiere nel secondo tempo non il primo sì insomma il primo nel secondo è la stessa cosa ho fatto delle parate eccezionali ci siamo mossi ci siamo mossi abbastanza meglio cioè discretamente molto meglio comunque del primo tempo sì ha concesso di più ed è venuto aspetta e non è che ha concesso di più è qui il punto e bisogna ritornare alla partita di Torino la partita di Torino praticamente ha detto che la Juventus può anche non giocare bene può andare praticamente a giocare sugli avversari a fare ripartenze eccetera però intimorisce talmente l'avversario che lo fa giocare male la prima caratteristica della Juventus che fa giocare male è l'avversario se tu vai in vantaggio di 1 a 0 puoi portarsi pure che si confonde l'Inter e magari non vince la partita questo è il punto cruciale infatti Vlaovic prende 4 per quella partita perché è troppo grave quell'errore troppo grave quasi l'errore sul 2 a 0 sul passato di McKennie all'andata l'Inter nel secondo tempo era un'altra fase della stagione si è anche un po' accontentata no e questo non lo può dire perché le squadre di calcio non ci accontentano mai ma ha gestito il pallone la Juve stava lì l'Inter stava lì se mi rendi al 94esimo non crossa alla bandierina ma la mette in mezzo ci sono tre giocatori della Juve magari non è vero che non puoi di farlo a Michele nel secondo tempo di Torino abbiamo detto tutti che è stata una partita noi ossa perché l'Inter stava lì io parlo del secondo tempo dell'andata mentre l'Inter al ritorno l'ha approcciata dicendo all'andata era una cosa la Juve è ancora attaccata siamo consapevoli di essere una squadra forte dobbiamo prenderci i nostri rischi e dobbiamo provare a vincerla quindi è un altro tipo di approccio e la Juventus questi discorsi non li fa la Juve ha fatto il discorso intanto proviamo a non farlo però attenzione nel secondo tempo ha cercato anche di ripartire ha cercato di ripartire la Juventus ha un problema quando cerca di ripartire subisce praticamente le ripartenze ha un centrocampo anche meno qualitativo no è quello perché vedete quando allora il centrocampo quando si dice che fa filtro è perché c'è l'intensità quando tu invece hai un centrocampo di giocatori che portano la pala per 30-40 metri come Rabiot e McKennie e passano magari vicino al proprio compagno attaccante e transitano senza mettere la freccia poi si trovano praticamente a dover subire ripartenze e al centrocampo non c'è nessuno questo è il perché sono tutti giocatori come il Milan il centrocampo del Milan si inseriscono il centrocampo del Milan ma ora ti posso dare le azioni in questo proposito qua il centrocampo del Milan è diverso il centrocampo del Milan è diverso perché sono tutte mezze punte praticamente che tecnicamente sono brevine però non hanno la forza fisica atletica per contrastare l'avversario e quando ce l'hai lo trovi lo trovi lo trovi davanti pure lui pure lui va davanti infatti dovrebbe essere un po' più ma infatti se guardate se guardate i gol subiti dal Milan 27 la Juve 14 però il Milan ne segna 46 molto in più è pericoloso ma non può fare altro però il Milan non può fare altro ma ne parliamo ma infatti non capisco cosa cambia cosa cambia dall'1-0 al 3-2 cioè sempre Cortomuso è però 3-2 tutte le partite è quasi impossibile vincere invece 1-0 ce la puoi fare il 3-2 il 3-2 di Frosinone il 3-2 di Frosinone ieri era partita è una cosa in vereconda perché i ragazzini e qui dico della Juventus e qui entro anche in un altro discorso il decreto crescita abolito la Juventus il prossimo anno si troverà in vantaggio di tantissime squadre perché avendo la seconda squadra avendo Isenna la Roma avendo quei 3 a Frosinone avendo Ildiz e Illing a Torino le vuole vendere fa la squadra stai calmo stai calmo stai calmo ma però tutte queste a finiamo compriamo chi non rinnova perché io l'avevo detto prima della pubblicità Orrelli ti piacerebbe con questa cosa invece Rizzi no ma qui c'è qui c'è un problema lui come interista c'è un problema che l'Inter è vecchia però e gioca però gioca sì vabbè per il modo di dire è vecchia ma gioca per il campionato la Juventus può giocare per il futuro ed è diverso però il povero Borrelli di Scuramini è giovane Bastoni è giovane Babisek Bastoni Cialanoglu comunque ma anche lì ma tu lui sta citando Giovanna lui sta citando dicevo a lei che non è giovane però c'è un equivoco se parliamo di giovani lui intende la media 23-24-22 c'è un equivoco non è che se tu non hai l'under 23 non puoi avere giovani in giro di proprietà l'Inter ha tanti giovani che non sono in serie C nell'under 23 uno è bravissimo Scaroni o quello del Monza Carboni Valentin Carboni è un 2005 così come ma ce ne sono tanti i fratelli Esposito uno in 2005 pure lui nello spazio e di che aveva messo anche Borrelli no ma ragazzi ma i giovani non è che il settore gioie è l'Inter Elena sei tra due fuori pensa te siccome ho detto che è anziana all'Inter ho scambiato il presidente del Mila Scaroni ma infatti su Scaroni infatti non capivo una battuta invece non era una battuta c'è stato Smiley che ha detto tocca a me tocca a me a parlare Mila Mila chi mi ha evocato allora ragazzi tra l'altro il waltzer degli allenatori parte proprio quello stavo dicendo siccome la Juve è interessata ha già tante ali tipo su lei poi non lo so se li vende perché fa cassa ma siccome è interessata pure un giocatore come Felipe Anderson che ha 30 anni perché c'entra col waltzer degli allenatori c'entra perché finite nel 3-5-2 di Allegri già Chiesa per me non è nella sua posizione ideale perché un esterno come lo fa giocare Spalletti e gioca a seconda punta ti rispondo subito se Chiesa se rimane Allegri gioca a quinto esterno come ha fatto Di Bala come ha fatto come fa Weah che è una punta o un sottopunto ma perché scusate ma io ti dico che secondo me la Juve va su Tiago Motta e giocherà con i tre davanti con l'esterno la Juve ma scusate perché parliamo di Anderson adesso perché per me Giuntoli vuole sviluppare un progetto vuole sviluppare perché secondo me Giuntoli vuole sviluppare un progetto anche facendo crescere i giovani e vuole un allenatore di progetto che può valorizzare vuole anche il Milan però non dobbiamo scegliere il Milan Tiago Motta ho capito ma tra la Juve e il Milan magari sceglie la Juve Tiago Motta tu hai parlato per esempio di Anderson alla Juventus alla Juventus che potrebbe essere un'occasione ma chi l'ha detto dipende dall'allenatore che c'è questo è un discorso ma perché l'hanno preso? dal 5 febbraio si può prendere questo è un discorso Michele questo è un discorso sarebbe come quello che fanno a Napoli voi secondo voi il Napoli ha preso quattro giocatori adesso nuovi di cui due doppioni uno in gong che è abbastanza buono potrebbe essere buono mazzocchi però mi dovete raccontare un pochino se l'allenatore che stia è il giocatore oppure Mazzari l'allenatore del futuro se Mazzari l'allenatore del futuro e ha detto questi giocatori mi stanno bene allora va bene se non ha una logica se non ha una logica parlare di giocatori senza sapere chi è l'allenatore ma qui voi mi dite Tiago Motta va da una parte Conte va da una parte aspettiamo sai chi vedrei bene a Napoli l'anno prossimo Pioli ma infatti è l'ultima di mercato Pioli Pioli e Napoli io non ho detto che non ho detto che ho saputo che questo allenatore va là sto dicendo che ci sono due allenatori che sicuramente l'anno prossimo alleneranno una grande squadra e sono Conte che non ce la fa più stare fermo e ha già detto che Napoli e Roma ma sono due piazze che prima o poi piacerebbe perché l'ha detto perché se restano solo Napoli e Roma e Juve e Mila non si può andare a Napoli e poi c'è Tiago Motta ha parlato il suo agente ha detto a Napoli no e allora se Tiago Motta va in una grande squadra a Napoli no a Roma no rimangono Juve e Mila in effetti Tiago Motta il suo agente perché poi è anche questo il problema che parlano gli agenti il discorso anche che dicevamo oggi si parla troppo e De Laurenti si è scatenato il famoso De Laurenti no De Laurenti si è già difeso da lui non va nessuno non c'è problema allena lui non vuole nessuno di Napoli Tiago Motta il procuratore ha detto il capitano giocatore di Napoli se continua così prima di andare lì praticamente secondo me gli rimane Mazzarri per mancanza d'alternativa no no io lo impediscono a Napoli ma quello che volevo allora è vero che una cosa Borrelli si basa su due certezze che Tiago Motta andrà via da Bologna che Mazzarri su tre non sarà l'allenatore del Napoli e che Conte tornerà ad allenare c'è una quarta certezza su cui si poggiava e poggiava la testa sul cuscino tranquillo il nostro Rudy Sbaila è che Tiago Motta potesse andare al Milan giusto? Tu lo preferivi quasi a Conte ma perché tu sei milanista scusami Luciano sono praticamente perfetto per quello no non hai capito io ho visto la partita ero allo stadio ho visto la partita col Bologna e devo dire poi lo vediamo insomma cosa sta facendo Tiago Motta mi piace come allenatore per quanto in quella partita ci sono stati un po' di battibecchi tra tifosi ma sono cose così che riguardano quella partita oddio adesso che preferisco preferirlo a Conte non so se mi sento di dirlo perché mi piace molto anche a Conte le ultime notizie che ho letto così perché prendo informazioni da tifoso non ho fonti ufficiali però hanno raffreddato un po' queste cose si fanno dei nomi di allenatori che io francamente non conosco le avrebbero le fonti le avrebbero l'udine avrebbero perché non seguo la liga francese parlo di questo allenatore del Nizza Farioli che piace anche a De Laurenti posso dirti posso dirti una cosa io per esempio ho ammirato Tiago Motta quando ha detto di no al centroavanti austriaco Arnautovic sì è Arnautovic perché quello lì era un problema adesso le squadre di calcio non danno più riferimenti e non dando più riferimenti però ci vogliono i piedi buoni e la costanza fisica da portare avanti praticamente atleticamente io credo che quella squadra così come è composta praticamente debba evidenziare l'attività della società in una maniera eccezionale perché hanno non è una squadra di fenomeni attenzione ma di possibili fenomeni perché Zizke perché Ferguson è vero è vero però Luciano tu lo sai meglio di tutti che allora ad oggi non può essere fatto un confronto tra Tiago Motta e Conte ma io non lo faccio nessuno no 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 non lo dico a te lo dico in generale perché io sento poi parlare come se i due si equivalessero allora torniamo un attimo sulla terra perché lui sta facendo benissimo benissimo però prima di arrivare ad essere tra virgolette un allenatore che fa vincere la Juve dopo due settimi posti l'Inter dopo dieci anni di non vittorie e porta la nazionale quella nazionale lì a un livello europeo che nessuno si aspettava fa benissimo ovunque va tranne l'Inghilterra perché Tottenham non vince mai ha ragione a dirlo perché Tottenham non ha vinto con nessuno allora ma diciamo ci vuole un attimo di equilibrio perché Tiago Motta possa diventare un ottimo allenatore sicuro costa meno di Conte ma è un problema anche economico tra quelli che costano meno e la Juve l'anno prossimo e a ottobre novembre si è messo peggio di quest'anno cosa facciamo allora ascolta Francesco ascolta ascolta scusa ha vinto niente ma ha vinto per dieci anni Giovanna ha vinto a gestire il mio scusate un attimo scusate tra Conte e Tiago Motta ci sono diversità proprio di vedute e poi dopo no scusate io vi dico adesso visto che ci è dato siamo entrati nel discorso di Conte e ho sentito voi nella trasmissione dell'altra volta che avete detto che Conte era arrabbiato perché tutti dicevano dove andava Conte devo dire che era così tranquillo a me ha detto guarda io vado la sera a letto tranquillo mi sveglio tranquillo e aspetto siccome lui ha la possibilità di aspettare ci saranno tanti acquirenti per lui per cui il problema non se lo pone però tra Conte e Tiago Motta ci sono due sostanzialmente due differenze la prima è che Tiago Motta ti prende i giocatori praticamente da svezzare Antonio Conte vuole i giocatori per vincere e questa è chi prende Antonio Conte e io sono d'accordo con Francesco è sicuramente una presa ottima anche perché Conte sicuramente ti dà la squadra che può aspirare subito al campionato ma deve mettere nel contesto per esempio quando dicono che Conte va al Mila ma se Conte va al Mila vuole due centrocampisti che facciano la diga in mezzo all'area di rigore e poi vuole un attacco che non faccia solo con le A o quello che praticamente vuole a Roma si può arrivare in tanti modi ma Conte e Tiago Motta sono due progetti diversi ma certo non sono in antitesi uno dice io preferisco questo ma sono anche due cose diverse ad oggi sì perché poi in Italia facciamo presto dire preferisci Tiago Motta o Conte in giro si parla di Tiago Motta come se fosse come Conte non è a quei livelli non c'entrano niente ma magari la gente fa così perché sono svincolati cioè sono i due che però Conte in una squadra in un Milan per dire messo a posto per lui Milan torna se non in 12 mesi 24 mesi torna a vincere con Tiago Motta esatto il fatto che dico io come gli ha spesi l'Inter quando gli ha messo Marotta in condizione con un calco ma infatti io Giovanni il fatto che dico che non c'entrino niente è anche dall'ottica di chi deve scegliere perché c'è la proprietà e poi ci sono i dirigenti se c'è un dirigente parte sportiva non so al Milan non si capisce bene e magari è diversa la situazione alla Juventus oggi c'è una struttura ed è giunto lì quando uno deve scegliere per un dirigente può essere anche più come dire stimolante fare un progetto dove tu sei quello che sceglie che indirizza la strada se tu prendi Conte poi comanda lui se non mi si affare mi dimetto se non mi prendi questo e dopo devi farmi quest'altro acquisto e voglio quell'attaccante e diventa un mondo Conte centrico che dura due anni al massimo tre invece ti argomento può essere un allenatore di progetto ho capito vai a chiedere a un tifoso preferisce vincere o preferisce avere il tifoso Francesco sarà il dirigente a scegliere non il tifoso Francesco ai tifosi non bisogna mai dare dentro per capire chi prendono dobbiamo metterci nella testa della società non del tifoso scusate se io guardo il palmarès di Conte ovvio che stia estremizzando aiutami ma Conte Giovanna era già allenatore quando giocava perché tra il primo e il secondo tempo sai che faceva veniva nello spogliatoio e parlava con i compagni prima e con l'allenatore dopo qui si sta bene qui dovremmo fare così eccetera quello era già un sintomo di un qualcuno che praticamente poteva aspirare a fare l'allenatore e Conte è un soggetto che tatticamente sa come predisporsi e come predisporre questo è il Conte che praticamente tutte le società vorrebbero però bisogna che si mettono in testa che così come lui tatticamente si potrebbe disporre o potrebbe disporre e si voglia un giocatore ed altri ecco ma a questo proposito Elena secondo te da un punto di vista così economico perché Conte è come diceva oggi un'industria no? cioè tu devi prendere lui pagare lui ma soprattutto no l'industria e qui ti devo correre l'industria è Giampiero Gasperini perché Giampiero Gasperini da quando sta lui all'Atalanta gli cambiano costantemente la squadra e lui riesce con quelli che li danno è vero è un perfetto ministro delegato di azienda è pazzesco Gasperini è vero meriterebbe veramente un plauso un elogio guarda con De Ketelar anche è suo piccolo è un piccolo conto Gasperini assolutamente poi ha un piglio mica da poco io pensavo fosse Mite poi l'ho conosciuto bene c'è uno porca miseria vabbè ma meglio mi piacciono le persone così no dicevo c'è in Italia secondo te una squadra che potrebbe supportare e permettersi il progetto Conte parliamoci chiaro lui vorrebbe tornare alla Juve io mi domando se la Juve ha i soldi per pagare lo stipendio di Conte perché Allegri ha uno stipendio molto elevato Conte vorrebbe uno stipendio almeno pari rispetto a quello di Allegri quindi non lo so se la Juve oggi col progetto di comunque taglio dei costi dovrebbe dare la buona uscita un anno ad Allegri dovrebbe pagare due allenatori ma secondo me la Juve prenderebbe Conte solo nel momento in cui Allegri si dimettesse ma poi anche scusate ma perché si parla sempre dell'allenatore della Juve che se ne va oppure viene sostituito perché se ne va dipende da lui viene sostituito dipende dal concetto dei tifosi allora infatti per me non viene sostituito no no esatto no no ma io mica contesto questo discorso allora io dico che praticamente è una cosa buffa il calcio sapete perché? perché prima della partita con l'Empoli dove c'è stato il pareggio 1 a 1 della Juve era considerato un eroe perché ha fatto una battuta guardi e ladri era stato sufficiente a catturare anche i tifosi che praticamente erano contrari dopo la partita con l'Inte è ridiventato uno che ma si può fare una cosa del giro ma infatti abbiamo anche questo argomento Luciano caspita dato che siamo tutti indebitati in Italia non noi iniziamolo subito dai dai abbiamo il titolo cosa? stavo dicendo un'altra cosa Gio che c'è una cosa da chiarire la proprietà Exor è l'unica che ad oggi se vuole ripiana con 700 milioni come ha fatto quindi il problema non è capire se Conte è sostenibile o no perché Conte è sostenibile il punto è capire chi decide cosa fare perché se come al solito decidono quelli che sono adibiti per lavorare alla Juventus senza essere tra virgolette indirizzati dalla proprietà allora decidono loro con i soldi che hanno se invece si sveglia John fa quello che vuole però ha fatto capire quello che vuole John l'ha appena fatto quello che voleva ha fatto l'aumento di capitale sociale ha preso anche Hamilton senza farlo saperà nessuno ma sono due società diverse ti sto dicendo ragazzi l'Exor è un'azienda ma quello che dici tu cambia idea i numeri di Exor non è che li invento io l'unica attività dell'Exor è la Juve ad oggi Vico, Stellantis, Ferrari volendo parliamo di uno che se vuole prende la serie A e la compra però quello che vuole non per fare lo spettoso perché non sono io Elkan però il concetto è secondo me quindi tu dici questa dirigenza se ha preso un indirizzo tipo quello di quest'anno allora Conte non lo calcola nemmeno se invece cambia rotta se invece si decide di tornare alle origini da su allora cambia tutto Giovanna posso fare allora aspetta fammi sentire Rudy poi fai tutto quello che vuole una domanda al volo a Moggi su una cosa importante cosa cosa non volevo fare una domanda importante aspetta aspetta che guarda sento Rudy poi la domanda a Luciano se dice così importante siamo qua fino a mezzanotte poi io dovrei fare la domanda a Francesco siamo in giro no no ma te la faccio subito e rapida come mi sta questa gravata benissimo poi tu sei super fresco una domanda secondo me importante poi mi è venuto qua con un mio idolo io non posso dire niente ma io ogni volta che vedo quelle persone guarda avremo prossimamente la vedete voi qua ma ogni volta che lo vedo mi vengono gli occhi lucidi ragazzi mi vengono gli occhi lucidi perché mi vengono gli occhi lucidi poi facciamo una foto dovrebbe andare alla Continast a fare un un giro di un corso di stop a seguire accelerato su un tema Giovanna per qualcuno beh forse è frettoloso quell'ingaggio comunque ma chi l'ha fatto? no certo arriva bene parati il problema era quello ma sapete ma sai Francesco a cosa arriva bene allora c'è l'assemblea dei soci no l'assemblea dei soci io a un certo punto parlo con Andrea Agnelli e c'era arriva bene e discutevo sui centrocampisti arriva bene ma noi abbiamo preso pure Vlaovic e chi ne dà palloni a Vlaovic ne dà tu lui era convinto che fossi centrocampista fantastico guarda scusami Borrelli sono unità butta solo lì la domanda butta la domanda poi siccome io mi prometti non parlo più di gravatta che rispondi dopo la pubblicità giuralo se no facciamo tutto dopo tutto dopo dai Borrelli mi piace così quando mi segui no perché io mi preparo la preoccupazione di Francesco Pini che è la stessa di De Laurenti se le cose vanno avanti così con un governo del calcio diviso e che non decide decide di non decidere quindi di trascinare le cose che non vanno si va verso insomma il capolinea no verso un qualcosa che non ha e a sfittico non riesce a evolversi io invece vedi su questo argomento qui ti dico che il governo ha avuto il coraggio di togliere il decreto ecco ma sai che è impopolare quello che dici perché tutti stanno piangendo da casini Gravina invece diciamo ma scusa allora scusa ma no anche io bianco allora decreto crescita che l'ha porto io credo io credo che credo che abbiano fatto bene perché le società le società sono private lasciatemi se Michele scusa se Michele piange lasciatemi ridere allora lasciatemi ridere allora partiamo dal decreto crescita allora le società di calcio però poi spiego perché no scusa no ma raga veramente le società di calcio alle 11 e mezza abbiamo il decreto crescita eh cioè ha fatto no vai vai Luciano allora il decreto crescita è un qualcosa che praticamente ha convinto le nostre squadre a fare una squadra di stranieri di cui se per esempio prendete una squadra che andava per la maggiore il Sassuolo adesso lotta per procedere e a tutti i stranieri tutti i stranieri salvo Berardi e qualcun altro e non mi ricordo chi ma poca roba prendiamo l'Udinese prendiamo scusa prendiamo l'Udinese prendiamo 10.000 squadre l'Inter prendiamo la Juventus scusa prendiamo la Juventus ma adesso non faccio ma ho capito ma questi stranieri boni quanti ce ne sono alziamo il livello per il decreto crescita che era già stato portato un milione lo portiamo a tre ma il decreto crescita non c'è bisogno di alzare lo sai che cosa succede se dici tu questa cosa non tieni conto della nazionale perché quando giocano 10 giocatori stranieri ma il campione aiuta a crescere il giovane italiano forte il campione ma se noi prendiamo tutti i giocatori come sono nella maggior parte delle squadre di calcio dove andiamo e allora la nazionale è giusto che faccia le figure che fa perché l'allenatore della nazionale non avrà mai una squadra forte in quanto che i giocatori nostri praticamente non vengono valorizzati ma scusate ma in Inghilterra che hanno tanti stranieri anche più di noi adesso c'è un periodo in Inghilterra no in Inghilterra vanno gli stranieri che contano perché scusa dalla nazionale da noi fanno un campionato buono e poi vanno in premie lasciate secondo me secondo me questo discorso a parte che quest'ora è un po' complicato ma cercheremo di affrontarlo è frazionato in tante microproblematiche la base è la burocrazia che è un grandissimo problema in ogni ambito lavorativo di questo paese infatti adesso senza entrare nello specifico i problemi che hanno questi dirigenti nel gestire i veti i voti scusa un attimo sai cosa c'è di diverso che i pagamenti non vengono fatti tramite lega tramite lega bisogna fare fideuzioni facendo i passati degli stranieri è tutto un altro discorso nessuno fa le fideuzioni e allora vengono tutte le pippe del mondo e noi in Italia perché praticamente quelli che si accapigliavano per avere diritti televisivi ora si mettono d'accordo per pagarli meno ci sarà un motivo questa è una controindicazione aspetta aspetta fammi finire è un simposio questo ci confrontiamo sono d'accordo su questo i problemi sono così tanti che è difficile trovare una soluzione unica però condivido quello che dice Luciano cioè bisogna rivoluzionare tutto mettendo un po' al centro e proteggere i talenti che ci sono italiani per far funzionare meglio la nazionale ma la nazionale è quella che porta in nome dell'Italia attenzione e poi noi andiamo in giro con la nazionale che sono arrivati ormai abbiamo tutti i padoloni delle nostre squadre che sono tutti stranieri visto che sono così non sia più lo Stato ad aiutarli ma trovino loro dei nuovi stimoli dei nuovi modi lo so anch'io che la tassazione in Italia a un calciatore non gli conviene venire qua e gli conviene andare da un'altra parte a giocare ho capito facciamo le squadre più scarse quindi Inter Milan e Juventus in Europa hanno meno risultati quindi spenderanno meno investiranno meno e andremo sempre più dietro va bene ma una rivoluzione non vuol dire che è fatta senza dolore sacrificio e lacrime una rivoluzione una rivoluzione tu sei sicuro che giochino allora se lo straniero è più bravo dell'italiano sono d'accordo con te che giochi lo straniero ma giocano tutti stranieri nettamente più oppure allora sono 362 gli stranieri che partecipano al campionato italiano di questi 362 255 le potrei mandare a casa ma allora facciamo subito è facile il decreto crescita che è stato portato a un milione cioè il limite un giocatore che guadagna un milione lo portiamo a 4-5 milioni e rimangono i 10 stranieri che sono i 10 giocatori più forti della Serie A è facile e secondo me invece si deve fare in un'altra maniera i nostri dirigenti non devono comprare a chili i giocatori stranieri perché costano meno e vengono pagati meno devono fare una selezione ben precisa di questo discorso qua e allora tu avrai dei risultati c'è bisogno di alzare e abbassare tutte le squadre riguarda questo e poi alzo ancora di più il livello della discussione secondo me ormai che poi l'ha detto anche l'Unione Europea non possiamo più prescindere l'idea che perché il calcio funzioni debba nascere poi prima o dopo questa benedetta Superlega cioè il calcio come questo sport come negli Stati Uniti come dalle altre parti come è successo nel basket ormai l'interazione tra le persone i social le cose e siamo molto più legati e quindi bisogna non ha detto che deve nascere l'Unione Europea ha detto voi potete fare tutti i torni che vuoi perché c'è la libera concorrenza ti ricordi cosa diceva Cefrin sembrava che avessimo attentato non so all'onore al potere temporale del calcio e gli altri club che avevano che erano i più dedicati però adesso Mosso è stato muto Mila e Inna si sono tirati indietro ma il punto è che possiamo dirci tante cose è chiaro che se da una parte perdiamo il piacere di avere le squadre piccole che hanno una grande storia alle spalle c'è Infantino che è presidente della FIFA che praticamente è quello che ha fatto ritirare l'Inter adesso no se andiamo a parlare delle cose vere ve le dico io l'Inter prima partecipa e poi si lo dira ragazzi la Superlega le inglesi le tedesche e le francesi non ci sono e questo aspetta questo aspetta a dirlo ma no ma è anche questo aspetta a dirlo ma l'altro Seferi in notizia importante meravigliosa 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 la più bella infatti non si ricandica ma no ma credimi non sono solo io che ti fai Juve che contento di questa roba ma no il dramma è il dramma lo accorgeremo tra qualche anno quando faremo un altro tornei grazie al fatto che Seferi non è più in mezzo alle scatole Francesco il dramma sa qual è che il nostro vicepresidente è stato nominato a Seferi in vicepresidente dell'UEFA che gravina a posto però dico l'anno prossimo ci sarà già la Superlega c'è una Champions a 36 senza gironi con 8 partite nel girone l'amministratore delegato dell'associazione Fantasma come la chiama Seferi giustamente non c'è nessuno affiliato a parte l'Almadite e Barcellona dice che vuole fare una manifestazione con 14 partite garantite e là si che scompaiono i campionati nazionali che non c'è più la partita importante ma infatti allora adesso non siamo più a favore dei Vigai dell'Italia no guarda Michele io non so neppure siccome non so come viene organizzata mi astengo però che la Superlega debba andare a cercare emolumenti diversi per creare i presupposti di un bilancio delle società di calcio in maniera diversa tu poi mi potrai dire è la testa dei dirigenti che crea bilanci buoni e io sono d'accordo ma la sostanza qual è è che quando tu praticamente sei con l'acqua la gola o trovi perché altrimenti dovremmo dire perché siamo andati a fare i campionati del mondo in Arabia domanda domanda risposta a Natale a Natale aggiungiamo a Natale a Natale mandando a monte tutti i campionati d'Europa ci siamo andati perché alle società di calcio hanno dato la miseria per quelli che hanno adoperato i giocatori le altre non hanno preso niente e non poi esistere una cosa io ho detto che la cosa su cui sono d'accordo con la battaglia di Laurentiis è che la vera riforma che si deve fare è quella generale di tutto l'inquadramento del calendario del calcio allora sulla supermiglia Sheffery dice che questa qui è come uccidere il calcio io invece sono convinto che mandare via Sheffery nei compagni è necessitare una mano al calcio però ancora tre anni comunque Sheffery non si ricandiderà per la quarta volta non ci arriva lui ha detto non ci arriva non ci arriva ha detto non lo avevo allora l'annuncio di Sheffery che lascia l'UEFA lascerà non l'avevo detto per non influenzare il congresso nel calcio ho una bella vita ma anche fuori sono stanco di questo progetto senza senso della superlega mi ha snervato di chi mi hanno snervato quelli che si proclamano autorità morale posso riterermi felice orgoglioso di essere il capitano di una nave che ha saputo affrontare la tempesta e che continuerà a farlo nei prossimi tre anni di essere a capo di una comunità calcistica unica stanno provando a calpestare il calcio e scavargli la tomba si sentono vittime ma sono carabinieri sai cosa scusami sai il bambino che a scuola sai il bambino che a scuola prendeva il pallone e lo portava via quando scopriva che gli altri erano più forti lui lui sta facendo questo ma a me viene da dire che è lui che sta lasciando la barca ma ragazzi ma vogliamo parlare di come ha convinto Platini a scegliere Arabia Saudita eccetera eccetera anni fa vogliamo raccontarla questa vicenda solo questa indurrebbe chiunque a dire questo è un criminale dello sport non del calcio dello sport perché mandare i mondiali l'anno scorso a Natale in Arabia in quel modo lì con tutti i casini che sono susseguiti tutti i morti che ci sono stati per questi gli stati in Qatar in Arabia si faranno ma ci siamo andati a giocare la Supercoppa ma è tanto peggio mi sento a me mancano i momenti va bene che l'Inter prende 8 milioni giocando la Supercoppa e vincendo la Italia ma a me mancano scusate lasciamo stare il calcio perché ormai è giusto avere le partite dal venerdì a lunedì ed è giusto che sia così anche in frastimanali va benissimo ma a me manca la Supercoppa a inizio stagione d'estate in Italia quello mi manca certo ma non fa gioco invece di bloccare il campionato che senso ha giocare a gennaio una stagione stessa che è il primo ho capito ragazzi allora basta fare altre varianti la Supercoppa la Supercoppa addirittura non è solo adesso hanno fatto un contratto fino al 26 no tanto per essere chiari posso fare un passo indietro e tornare a dire ceferin stavo dicendo che a me mi dà la sensazione che voglia lasciare la barca prima che ci sia un vero terremoto perché notizia è la Superlega che vuole fargli causa all'UEFA per 3 miliardi quindi vuole fargli causa la Superlega i soldi li trova anche per i soldi firmati con i fondi che erano pronti ad entrare nella Superlega quindi ce n'è di carne a livello giuridico è meglio che abbandoni quindi queste scusami adesso non più Michele mi corregge dice la Juventus non è d'accordo adesso la Juventus è d'accordo con la Superlega ora non è d'accordo perché non c'è Agnelli è cambiato tutta la struttura e perché col casino l'anno scorso col fatto che tu hai fatto quel tipo hai accettato quella sorta di questione per non andare avanti patteggiando senza ammettere le tue colpevolezze attenzione che è ben diverso da farlo sono due codici diversi abbiamo un avvocato che può spiegarlo c'è da aggiungere che se vai in quel momento contro la UEFA se è frente ti sbrana quindi tu in quel momento devi per forza dissociarti io sto parlando di Real e il Barcellona che sono dentro ma hai partito con Agnelli e con Real Barcellona e vi vengono questa roba ma hai sentito la porta cosa ha detto l'altro giorno ci sono quattro società italiane siamo sedici la Champions League è partita nel 55 erano pochi ma poi sono diventati grandi sono due club sono sempre gli stessi e basta sta super c'era la Juve con Agnelli dentro ragazzi quando erano in Selleca ma non c'è più io sto parlando di Agnelli chiedete scusa Agnelli Agnelli vivono Agnelli e vivono potete dire scusa Agnelli Francesco non si fa sta Superlega si fa la nuova Champions l'anno prossimo ma il concetto era comunque di lanciare una provocazione a Seferin per fargli crollare da sotto il suo piedistallo e giustamente Seferin dice che è una zombie league la chiamata di Tifosi guarda caso nella prossima Champions ci sono molti più soldi guarda caso lui adesso dice che non si rimetterà al mandato eccetera 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 tu dici qualche tutto il remoto c'è stato ragazzi certo l'hanno mandato via da tutte le società non è un caso che Agnelli viene indagato dopo quella roba lì c'è parte anche tutto da lì ragazzi l'hanno mandato via dalle società del gruppo lo stesso Gionelka l'hanno mandato via da tutte le società dove era poteva rimanere Andrea Agnelli poteva rimanere nel CDA delle altre società e perché se n'è andato secondo te? se n'è andato l'hanno fatto andare perché? perché evidentemente non gli andava più bene agli altri a Gionelka per primo infatti sono due persone diverse per me tu dici ha vinto Andrea Agnelli per me è assolutamente il contrario Andrea Agnelli aveva ragione ma i fatti gli stanno dando torto ma che fatti gli stanno dando torto? perché tutto quello che continua a dire lui che se n'è andato Boba non sai perché? perché ha prolungato la possibilità anche nel 2027 di ricandida poi ha detto di no ma perché ha detto di no? ma non è vero ti sto parlando così ma la Juve di oggi ti sto parlando positiva è proprio da interesse tu stai parlando di una Juve che non c'è più io ti sto parlando della Juve di oggi ma io ti faccio adesso io non conosco pensa a te vedi trovati e io lo vince l'altro sei ecco il penultimo l'altro sette tu sono? vabbè è uguale ma c'è una carambata c'è una carambata qua attenzione che c'è una scommessa in atto di quelli pesanti ah sì? eh tra me e il direttore sì ah ma si può no si può rivedere no no le robe fuori onda non si dicono assolutamente quello che succede fuori onda resta fuori onda lo che passa in Ibiza resta le sedeche in Ibiza che cosa no ho capito di Ibiza che c'è una scommessa in corso estremamente insomma strong e vivace su cosa? tra te opinio no no non lo so ma no ma quella roba che stanno parlando fuori onda adesso lascia stare niente di importante torniamo a noi torniamo a noi una cena una pizza torniamo a noi torniamo a noi e se ho ragione gli vende un'altra macchina Seferi non lo vogliamo più vedere non conosco Boban ma se Boban se ne va no scusa lascia stare Boban qui è la macchina lui mi vuole vendere una macchina già me ne ha venduta una però devo dire come va devo dire eccezionale ma vabbè ma è per Luciano insomma io ho il trattamento di favore per gli amici e gli ho dato anche qualcosa in più di quello che mi chiedeva non è vero a meno a meno mi ha offerto il pranzo carinissimo grande grande Luciano ma sappiamo che opinio numero uno poi per gli amici insomma no no guarda io sugli amici non guadagno mai solo su mia madre farà contendita perché non se ne intende tanto non mi guarda quest'ora ad fare altro però ho visto il video in cui l'hai portata insomma a scegliere la macchina e beh qualcuno deve pur farlo perché mi ci rivedevo insomma ti capisco ti capisco scende sulla terra invece già Francesca era più avvezza l'ho vista più sì beh va bene sì 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 io sono come Alba allora detto questo non conosco Seferin non conosco Boba ma se Boba si è dimesso perché Seferin voleva ha inserito la possibilità di ricandidarsi per la quarta volta cosa che era stata tolta nello statuto è perché voleva ricandidarsi per la quarta volta e se non l'ha fatto è perché evidentemente uno scossone ha il suo strapotere vuoi le dimissioni di Boban vuoi la Superlega vuoi la corrente anche di chi come noi nel nostro piccolo inizia no a capire che è solo business per lui l'UEFA insomma lo hanno portato a ritirare questa candidatura perché lui voleva ritirare voleva candidarsi inutile che adesso dica voglio stare con la mia famiglia perché un mese fa non era così ha cambiato anche il regolamento solo non sapeva operare lui probabilmente una ragione comportamentale ce la può avere con Andrea Agnelli ma è diverso il discorso da lì a operare praticamente ce ne corre io vi faccio un piccolo esempio di qualcosa che significa saper tirare le fila di un ambiente sapete perché ci sono state delle radiazioni nella nostra diciamo vogliamo dire nella nostra federazione perché pensavano tutti che ci fossero praticamente il susseguirsi di dirigenti diversi da quelli che c'erano e che praticamente per evitare che potessero andare in lega e in federazione sono stati radiati capisci questo qui non lo capisce nessuno a me un giorno il dottore Umberto Agnelli mi disse una cosa io parlavo si parlava delle elezioni dal presidente federale e noi chiaramente parteggiavamo per Carraro parteggiavamo per Carraro io Agnelli mi domandò gli dice sì sì parteggiavamo per Carraro mi guardo in faccia e mi dice ma sai che lui fa solo i cazzi suoi no tanto per essere chiari e questo qui è il motivo per cui ci sono state delle radiazioni non per il sequestro paparesta attenzione perché quella a livello di Barzelletta perché sapevano perfettamente che forse sarebbero successe delle cose un po' particolari sia in lega che in federazione guarda Mogi allora dimmi di mi Elena dimmi su questo argomento su questo argomento in relazione all'UEFA e allo strapotere che Ceferin voleva prendere secondo me bisogna fare un discorso giuridico in primis perché se siamo in un regime di democrazia un mandato quasi infinito vuol dire che diventi un monarca assoluto di quella federazione e viene meno Ceferin c'è il limite a tre mandati adesso mi sembrano tutti simili i tre mandati sono tanti già sono tanti beh direi quattro è monarca assoluta ad un certo punto loro hanno messo questa cosa secondo me ha fatto veramente il passo più lungo della gamba andando a scontrarsi con qualcuno che magari è come però ma sapete sapete voi il presidente dell'ECA qual è il compito del presidente dell'ECA che è praticamente uno un diretto dipendente di Ceferin all'UEFA sono i club più importanti esatto ma sono quelli che dovrebbero guardare praticamente i bilanci eccetera c'era Agnelli è stato tolto Agnelli hanno messo il presidente del Paris Saint Germain ma dove andiamo? ma ragazzi ma vogliamo ancora parlare di queste cose? no no guarda sai cosa è meglio fare? cambiare argomento caro Rudy Smaila caro Pini tu come ti sei post siete tutt'uno e quindi vi do del tu invece che voi no è pericoloso no che già così dicono che siamo schierati contro l'Inter a me è l'ultimo che mi disse noi siamo i rinco boys a me è l'ultimo che mi disse ti posso dare del tu prego? è pericoloso quando dice così perché a me è l'ultimo che mi disse ti posso dare del tu ma ti ha fregato ti ha fregato no giuro che non è vai dici come siete posizionati nei confronti di questo arbitro incappucciato che le prime dichiarazioni va bene il clamore la curiosità sulla scia anche di polemiche che venivano da noi dalla nostra pancia di ingiustizie grosse evidenti la seconda vabbè adesso la terza facevo un giro anche nei vari blog anche gli stessi tifosi dicono vabbè ma che fai il moviolista cioè o ci fai vedere chi sei e fai una denuncia vera e propria oppure infatti io non ne parlerei nemmeno di questo soggetto sinceramente perché le iene intanto conosciamo come operano e tendenzialmente sono molto bravi molto però Filippo Roma fa dei servizi tendenziosi spesso e volentieri sì sul calcio soprattutto mi spiace dirlo anche perché parla di quello che gli interessa parlare ti sta salutando ciao Filippo no no ma è una cosa è una cosa è una cosa abbastanza è una cosa abbastanza mi ha chiesto visto che a fine set se dopo andiamo a berci una birra quando abbiamo finito no ma non posso no tu porti in trasmissione un soggetto che dichiara di essere un arbitro di un'attività incappucciato che non rivela la sua identità e quindi già quello è una cosa poco credibile perché se tu devi dire una cosa la dici a tutto tondo se no non racconti questo modo se no anche noi ci presentiamo qua la prossima con un signore incappucciato diciamo che è un personaggio della Lega che ha da dire delle cose parla per due giorni però giornalisticamente quante voci contraffatte quante interviste se tu sai che è vero il tuo intervistore Giovanna l'errore sai dove sta tu vedi che capisci che secondo me un arbitro non di livello non dico scarso ma non di livello perché lui parla di cose tecniche in modo errato uno che mette in discussione la goal line technology il fuorigioco il fuorigioco semiautomatico e altre cose come quelle sentite nelle trasmissioni mi fanno capire che evidentemente se non fa se non fa l'arbitro di partita di cartello è perché tanto portato per fare quel mestiere probabilmente non è chi dice dipende il frame la riga viene tracciata in base al frame in cui si che scegli quando il fuorigioco ma posso dire ma per fortuna che ci sono ancora qualche errore perché se no cosa facciamo ma col VAR dovrebbe esserci l'errore ma si ma intendo dire gli errori esisteranno sempre siamo umani e sbaglieremo sempre qualche cosa cioè il calcio cerchiamo di secondo me alcuni innesti sono stati risolutivi di problematiche che duravano e polemiche infinite ma gli errori ci saranno sempre degli errori non finiranno finché c'è la soggettività si certo ma ci saranno sempre però ti dico la soggettività è dell'uomo ci sarà sempre un errore però non capisco tu che hai sempre cioè hai notato in questo campionato una bilancia che pende a favore del lì no tu dico il tifoso tutti tranne quelli che hanno il suo interesse molti ti fa incavolare di più cioè preferisci che questo rimanga una cosa detta qua piuttosto che un arbitro che autorevolmente è vero ma la sua teoria non è quella Giovanna dice la stessa cosa non ha detto quello l'arbitro ma dici che ci sono Bastoni l'ha nominato ma ha nominato anche errori per altre squadre quello è il concetto perché dico tendenzioso perché lui cerca di mandare in in un momento in cui c'è un'attenzione particolare verso una situazione lui cerca di congrobarle tutte e non si fa così addirittura Francesco dice l'opposto cioè di quello che dice lui dice loro l'hanno chiamato apposta per sviare quello che si stava dicendo il concetto è che io non mi sento rappresentato se lo meno l'hanno chiamato è lui che ha voluto denunciare una cosa e io qui sono d'accordo con te una cosa dove dice ci danno le pagelle sbagliate in ogni ambiente in ogni azienda ci sono quelli che vanno avanti quelli che non vanno avanti esatto e tu dici io porto le prove perché ci sono degli arbitri che sbagliano e che continuano a stare lì può essere anche però ci sarà sempre un capo in un'azienda ci sarà sempre chi ha il codice con l'interview per esempio l'interview per esempio questo è stato questo weekend l'arbitro che tutti hanno fatto casino per una settimana che non ci ha rossato io compreso perché io penso che questo sia il numero uno è stato bravissimo ha fatto una parola a dieci è stato bravissimo ok c'era un episodio ma oggi cosa ne pensi Michele e poi faccio parlare Luciano che hanno fatto visita Giovanna Giovanna dovrebbe essere presa a calci nel sedere ma data via questo è quello perché stanno gettando ombre su una categoria già in difficoltà in difficoltà certo ma poi su tutto il calcio italiano ma poi anche su tutto il calcio italiano perché siamo arrivati all'anonimo in attività sembra un film di fantascienza vedi Michele sai perché è nato calciopoli per questi motivi perché a furia di dire rubano rubano poi le bugie diventano anche verità che diventa quel pilone che non c'entrava col cacolo allora il tempo quando sentite questo rullo di tamburi vuol dire che il tempo è volato e siamo arrivati alla fine al momento dei saluti io saluto il nostro Rudy Smiley ma grazie Giovanna e soprattutto tutti voi tutti gli amici qua in studio è stata una bellissima serata grazie più spesso più spesso sei informissima Rudy grazie più spesso in studio anche perché lui abbiamo seguito il calcio da quando siamo piccoli insieme ovviamente e abbiamo scoperto dell'Inter dopo il 2006 grazie a tutti grazie a tutti